Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Sono 936 giorni dal mio intervento di sleeve gastrectomy modificata, ovvero due anni, sei mesi, tre settimane e tre giorni da quando sono stato sottoposto al mio intervento di chirurgia bariatrica. Vediamo come sto. Sono stato obeso per 20 anni e dopodiché mi sono deciso anche a causa di tutte le malattie che avevo insieme all'obesità di sottopormi a questo intervento chirurgico che mi ha cambiato la vita in meglio e mi ha aiutato a superare tutti questi problemi di salute che stavano diventando invalidanti. Infatti ho anche utilizzato la chip up per le pene notturne e si porta dei punti di invalidità reali. Ho avuto il diabete con tutta la terapia che si porta dietro, l'ipertensione con tutta la terapia che si porta dietro, il fegato grasso che come al solito tutti ignorano e anch'io l'ho ignorato a suo tempo e tante altre piccole magagne, piccole e grandi che tutti i giorni mi rendevano la vita un po' più pesante. Nel giro di pochi mesi dall'intervento ho perso un sacco di peso e ho iniziato ad avere la possibilità di cambiare il modo di pensare e di approcciarmi alla mia vita e ai problemi che questa mi porta e anche a gioire in modo diverso delle cose positive. Il diabete è sparito, l'ipertensione è sparita, il fegato grasso è guarito, le epne notturne sono sparite. La mia salute è stata rigirata completamente come un calzino e da un punto di vista clinico sto benissimo, da un punto di vista psicologico sto benissimo. È stato una vera e propria rinascita, anche se è un modo di dire che ho sempre assolutamente odiato e pensavo che fosse utilizzato da gente un po' invasata. Adesso che ci sono passato mi rendo conto che è l'unico modo realistico di spiegare che cosa succede dopo un intervento di chirurgia bariatrica. Non sapevo bene cosa aspettarmi, ma sapevo che se ne parlava troppo poco e quindi fin dall'inizio del mio percorso, fin dal pre-recovero, ho iniziato a fare tantissimi video. Siamo quasi a 200 video, ho smesso anche di contarli, per raccontare giorno dopo giorno com'è stata la mio approccio a questa cosa. E eccoci qua, a distanza di due anni e mezzo, dopo un periodo che non faccio video, per tanti casini della mia vita che non hanno niente a che fare con la sleeve, ma voglio riprendere e riprenderò sicuramente perché, messe a posto un po' di cose che scricchiano, adesso le cose dovrebbero andare un pochino meglio, assolutamente meglio. Ma perché dopo tanto tempo ricomincio dicendo che sono 935 giorni dal mio intervento di sleeve? 935? 936 giorni dal mio intervento di sleeve, beh perché mi è capitata una cosa nuova, una cosa che non mi sarei mai aspettato, e cioè che dopo un periodo di follie alimentari, nel senso che, chiamarle follie forse fine esagerato, però insomma il discorso è che ho mangiato quello che capitava, senza stare a farmi troppi problemi, primo mi sono reso conto che comunque a un certo punto dico basta, basta, cioè ma basta perché sono sazzo, perché sono soddisfatto, perché non me ne frega niente di andare avanti a mangiare, e secondo un pensiero che non avrei mai creduto di poter mai pensare, ovvero, oh, da adesso in poi insalatina. E' pazzesco perché ormai è talmente naturale per me mangiare in un modo corretto, che se per vari giorni non lo faccio, per mille e uno motivi, tutti validissimi, mi viene voglia di farlo. Ma è una voglia naturale, è una voglia sana, semplice, non è uno sforzo, non è un dire rinuncio a questa cosa buona, o rinuncio a un dolce, o rinuncio, no, no, è proprio un, no, grazie, sono a posto. E questo, beh, non avrei mai pensato che potesse succedermi. Un'altra cosa particolare, la dieta. L'altro giorno non mi ricordo con chi parlavo, che mi dice, ah sì, però poi tu hai la tua dieta, dimmi cosa devi mangiare. No, io no, io non ho dieta. Io ho imparato a mangiare meglio, ho imparato a mangiare giusto. Non ho una dieta da seguire. Ormai è in me la dieta, sono io che scelgo le quantità giuste e scelgo le cose giuste. Mi godo il cibo e posso dire non sono a dieta e non me ne frega niente di essere a dieta. Non ho bisogno di essere a dieta perché il mio peso è corretto, la mia salute è giusta. Certo, controllo il peso. Ogni tanto mi peso e vedo che il peso fluttua. Sale, scende, sale di 1-2 kg, scende di 1-2 kg, ma nell'ultimo anno praticamente è fisso. Va bene così, va bene così. Ho ripreso in mano la possibilità di star bene e di vivere bene e questa cosa è fantastica. E adesso? Adesso si va avanti con la vita normale, ma voglio portare avanti ancora questo progetto e quindi ho bisogno del vostro aiuto. Iscrivetevi al canale, lasciate i vostri commenti. Sto facendo tanta fatica a rispondere a tutti, anche se vorrei rispondere a uno per uno. Cercherò di fare il mio meglio, ma mi rendo conto che forse sono talmente tanti i messaggi che per la prima volta devo considerare l'ipotesi di non riuscire a rispondere a tutti, davvero. Però scrivetemi perché comunque leggo tutti i commenti e spesso fra i commenti trovo qualche cosa che mi stuzzica un nuovo video, mi stuzzica un'idea, mi stuzzica un pensiero. Lo sviluppo, lo sviscero e ve lo porto. Che cosa continuerò a fare con questo canale? Beh, sicuramente cercare informazioni, intervistare persone che hanno fatto i vari interventi di chirurgia dell'obesità, parlare di come cambiano i protocolli nel tempo, perché quando io ho iniziato ho raccontato com'era l'intervento a Zingonia, ma due anni e mezzo sono passati, in due anni e mezzo cambiano tante cose, quindi vorrò fare un altro giro di nuovo a chiacchierare con i medici, con i nutrizionisti, con tutta l'equip. E poi tante interviste, tante interviste agli operati, a quelli a cui è tutto andato bene e anche a quelli che onestamente per ora sono pochi, a cui le cose non sono andate così bene, perché io voglio raccontare quello che gira intorno alla chirurgia dell'obesità nel suo insieme. Non mi interessa venderla come la panacea di tutti i mali, come ogni cosa ha dei lati positivi e dei lati negativi. Quello che mi sconvolge a due anni e mezzo ormai abbondanti dall'intervento è che la quantità di lati positivi è schiacciante rispetto alla quantità di lati negativi, che è praticamente trascurabile. Questa è la mia storia, magari qualcun'altro è una storia diversa, la vuole raccontare? Che mi contatti? Ci sono dei medici che vogliono raccontare il loro punto di vista? Parliamone. Medici di base che vogliono raccontare come vivono il rapporto con pazienti obesi che quotidianamente affollano i loro studi? Parliamone, è importantissimo. Parliamone. Facciamo girare le informazioni, facciamo girare le idee, ma quello che voglio fare è dare la possibilità a chi è imprigionato nell'obesità di poter scoprire una strada che potrebbe essere la sua per guarire e per stare bene. Per oggi vi saluto, lasciate i vostri like, i vostri commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie!